Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il collegamento tra l'Abruzzo e la Croazia del Vecchio si pensa alla prossima stagione estiva ma questo collegamento ci sarà anche soprattutto nel periodo invernale, è questa l'idea? Il collegamento marittimo con la Croazia dal porto di Ortona oppure dal porto di Pescara a seconda quelle che sono le condizioni migliori per l'operatore rappresenta la ripresa di un collegamento turistico con l'altra sponda dell'Adriatico che non è soltanto limitato al periodo estivo ma anche al periodo invernale, va a coprire l'intero arco dei 12 mesi a partire da marzo dell'anno prossimo. Circa 100 milioni di euro tra Masterplan e altre risorse dell'FSC che consentono di adeguare le strutture portuali abruzzesi a quelle che sono le esigenze commerciali e turistiche. Questa estate è l'estate che si sta chiudendo e invece non c'è stata la possibilità di ripristinare questo collegamento però? Non c'è stata la possibilità per due ovvie ragioni, la prima è che stiamo operando sugli scali per ripristinare condizioni di maggiore fruibilità, la seconda è perché il bando ha richiesto il tempo necessario per verificare quali sono le condizioni migliori e individuare il soggetto migliore per poter realizzare questo scalo. E anche là il reperimento delle risorse, 2 milioni e 400 mila euro per il triennio 19-21 sono un buon auspicio per una ripresa economica per quanto riguarda sia il sotterro e turistico ma anche quello commerciale.